Il display di segnalazione si apre all'avvio del motore e si chiude quando il motore viene spento. Il dispositivo display di segnalazione proietta un'immagine a colori ad alta risoluzione nel campo visivo del conducente. Pertanto, senza distogliere lo sguardo dalla strada, è possibile visualizzare le informazioni di guida e navigazione dal quadro della strumentazione e dallo schermo multifunzione. È semplice e intuitivo dal punto di vista ergonomico, grazie all'utilizzo di soli simboli e pittogrammi. L'altezza delle informazioni sul display può essere regolata tramite lo schermo multifunzione. Grazie a tutti.